Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saraceno da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad una persona di Washington DC, Stati Uniti, che mi fa questa domanda. Dottore, mi spiega un attimino, mi spiega perché ascolto voci nella testa, delle voci senza un vero perché e addirittura i miei amici, i miei parenti, i miei genitori, i miei fratelli e le mie sorelle mi prendono per pazzo. Volevo capire cosa fare perché sono andata da vari specialisti qui negli Stati Uniti ma non ho risolto il mio problema, di voci nella testa, come se si trattasse di fantasmi e non mi sento male quando, anche se non mi dicono nulla, mi prendono per pazzo. rispondo a te e rispondo a chi mi sta ascoltando che voci nella testa sono, come afferma qualche guru, delle allucinazioni uditive. Significa che la mente, il subconscio ti porta a sentire cose che tu, tra virgolette, non vedi. La provenienza, soprattutto. Perché ci si comporta così? Perché il subconscio ti fa sentire delle voci nella tua testa? Perché ha captato nell'arco della tua vita delle voci che possono provenire da film, da battute, pettegolezzi, storie di quando eri ragazzino oppure adulto in un certo momento emotivo della tua vita. Come fare per uscirsene? Convincendo il tuo subconscio con delle sessioni online di ipnosi, di CS, vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo, soprattutto su Skype e qualsiasi parte del mondo in cui abiti, anche se al momento sono sospese perché sto lavorando ad altri progetti e non ho molto tempo, oppure scaricando un audio mp3 di CS dal titolo Voci Mai Più. Un vero e proprio capolavoro che proviene direttamente dallo St. George Beverly Hills, due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale, il professor dottor Michelangelo Garai e la dottoressa Rina Brunini, i miei maestri, i miei mentori, i miei associati per l'eternità. Ti posso garantire che se segui le istruzioni molto facili, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro, tu potrai dire addio a queste voci che non ti fanno dormire la notte, che non ti lasciano in pace durante la giornata, che ti fanno sentire a disagio perché percepisci che chi ti circonda e che ami ti vede come un pazzo, una pazza. per favore non credere nessuna parola del sottoscritto, ma chi ha questo problema delle voci nella testa vive veramente malissimo a dir poco, malissimo, ok? Per non parlare di casi molto ma molto gravi. Per cui se hai dubbi, hai provato tutto, sei andato dal tuo medico, dallo specialista della tua salute e non sai più cosa fare, una cosa non esclude l'altra, puoi scaricarti quest'audio mp3 dcs dal titolo Voci mai più e veramente una volta per tutte, cancelli dal tuo subconscio ciò che ti fa. non vivere, fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su facebook, ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi, soluzione dcs del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può e ti può cambiare la vita e seguimi anche sui altri social, instagram e twitter, benessere ipnosi soluzione dcs del dottor Claudio Saracino, un bacio e un abbraccio amico mio, amica mia e alla prossima dal dottor Claudio Saracino, la tua, ciao